Ci facciamo un ultimo E poi si parte con la notte XL in moda E poi si parte con la notte XL in moda Si va, si va Sì 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 Ma queste sono le ultime volte del Natino L'animazione di Lorena e Fabrizio E la musica di Richo Locos È uno Special Transformics E noi siamo pronti questa grande notte del 5 marzo 2016, voglio sentire l'urlo di tutte le donne, l'8 marzo è alle porte, iniziamo così Il suono di Cisani, Staviti, le luci di Alessio Fuscieri, la voce di Pepe Gioos La sua moglie sta Grazie a tutti 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 Voglio sentire Grazie a tutti 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 Abbracciati a tutti Abbracciati a tutti Grazie 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 a tutti